Dopo la denuncia di due imprenditori che impiegavano Braccianti Nero per la raccolta di ciliegie a Turi e Conversano, i carabinieri del comando provinciale di Bari hanno puntato i riflettori sulle attività di autolavaggio. In questo contesto è stato denunciato per sfruttamento del lavoro il gestore di un autolavaggio di Trigiano, un 44enne originario del Senegal, il quale, approfittando dello stato di bisogno di due suoi connazionali, li impiegava per la pulizia delle autovetture facendoli lavorare da circa due anni per otto ore al giorno con paga oraria di 5 euro a fronte degli otto euro previsti dai contratti collettivi nazionali. Per nascondere lo sfruttamento lo stesso aveva alterato il libro unico del lavoro facendo risultare fittiziamente 50 ore mensili luogo delle 160 effettivamente prestate. Al termine delle operazioni i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative penali per oltre 100.000 euro. È andata peggio invece a un 55enne di Neicattaro proprietario di un autolavaggio con sede a Bari nel quartiere Torre Amare. Al termine dei controlli infatti è emerso che l'uomo sfruttava quattro operai di nazionalità georgiana e nigeriana assunti a nero con paga oraria di 3 euro impiegandoli come lavavetri anche 10 ore al giorno e facendoli alloggiare in un locale ricavato proprio nell'autolavaggio privo dei requisiti minimi di abitabilità. Il 55enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari mentre in questo caso le sanzioni amministrative penali combinate sono state pari a 90.000 euro.